Io ho avuto la fortuna di conoscere e vedere il lavoro a Abarth una volta sola nella mia vita ed è stato in occasione della sua ultima visita all'Avarth che credo sia venuta, e pare lui sia morto nel 79, sia venuta nella primavera del 79 era già assegnato chiaramente dal male che lo stava aggredendo e questa visita era probabilmente una visita che lui ce la sentiva del cuore era una visita di commiato alla sua ditta e lì ho potuto vedere dal vivo il suo modus operandi nel senso che questa persona che da anni mancava della sua ditta è arrivata, è andata a Davidana e poi è scesa in officina è scesa nell'officina ad ammirare quella che doveva essere l'ultima Abarth nata in quel momento che era l'S033, la Formula Fiat e rimase sconvolto da quanto brutta era tant'è vero che quando è arrivato Colucci a salutarlo non gli ha neanche detto buongiorno ma gli ha detto che macchina brutta che voi avete fatto con la sua flema, la sua enfasi si è fatto dare una sedia, si è seduto lì accanto alla vettura e ha cominciato con del cartone a tracciare quelle che secondo lui dovevano essere le modifiche grazie a tutti